I diritti di tutti e di tutte è il titolo della serata pubblica del sinodo delle chiese valdesi e metodiste lunedì 25 agosto al Tempio Valdese di Torre Pellice. Ospiti tra gli altri Luigi Manconi, Presidente della Commissione Parlamentare per la tutela dei diritti e Gianna Pentenero, Assessore all'Istruzione, al Lavoro e alla Formazione e ai Diritti della Regione Piemonte che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Buonasera. Buonasera a voi. La prima domanda è molto semplice, se ci può anticipare il suo tema. Beh, innanzitutto credo che oggi uno dei temi principali quando parliamo di diritti credo tocchi il tema del diritto al lavoro e poi un tema che mi sta particolarmente a cuore e che attiene ovviamente anche alle deleghe che io ricopro oggi all'interno della Giunta regionale il tema del diritto allo studio, declinato per quanto è possibile nelle dinamiche del diritto di tutti e di tutte. C'è poi un tema che tocca il tema della violenza nei confronti delle donne che devo dire che quest'estate sembra aver avuto, sia diventato un fenomeno, quasi una piaga, un'emergenza e come sempre poi queste tematiche vengono affrontate. Io penso che invece la nostra regione abbia da sempre su questo tema avuto una grande attenzione. Esiste un piano che è stato redatto nel 2010, un piano contro la violenza nei confronti delle donne che è stato un po' abbandonato e credo che sia uno dei temi principali sui quali in materia di diritti sia necessario concentrare l'attenzione della nostra attività. Ma in modo particolare parlerò di lavoro, parlerò di lavoro dove ovviamente una regione come la nostra è una delle regioni che forse ha risentito più di questi cinque anni di crisi drammatica e complicata e gli ultimi anni sono stati anni che davvero hanno messo a dura prova la nostra comunità, le nostre comunità e se parliamo di lavoro nei confronti delle donne possiamo dire che oggi abbiamo una richiesta da parte delle donne di utilizzo del tempo part time che non è una richiesta di utilizzo del tempo part time come contratto di lavoro legato a un progetto di vita individuale ma una richiesta di lavoro part time dettato da un contesto che obbliga le donne a chiedere l'utilizzo del contratto part time perché in questo modo si riduce il quadro del tempo lavoro all'interno del sistema del mercato del lavoro. Questo è un dato drammatico così come è un dato drammatico il dato della disoccupazione. La nostra regione oggi ha un 12% come dato di disoccupazione complessivo ma in modo particolare credo che quello che maggiormente ci debba preoccupare è il dato della disoccupazione giovanile per il quale arriviamo al 46% soprattutto in provincia di Torino e quindi come dire anche il territorio del Pinerolese ne è particolarmente coinvolto e ne è particolarmente protagonista di un momento di difficoltà e di crisi così complicato che sta attraversando appunto il nostro territorio. Questi sono un po' i temi che questa sera ovviamente in un contesto davvero molto interessante, davvero molto, una serata anche ricca e quindi anche con la possibilità forse di approfondire un po' poco, temi che invece necessiterebbero di molto più tempo. Rimaniamo sui diritti ma affrontiamo il rapporto tra i diritti e l'istruzione. Il sinodo valdese-metodista ha sempre discusso e lo ha fatto nuovamente oggi del rapporto tra scuole e confessioni religiose ha affrontato anche oggi l'insegnamento della religione cattolica a scuola e di attività alternative e anche oggi si è sottolineata la difficoltà spesso incontrata di garantire sempre questo diritto. La politica in questo senso che cosa può fare concretamente? Beh, intanto la politica deve porre al centro davvero l'istruzione perché spesso si sentono proclami intorno ai quali si pensa che il modo per risolvere molte delle problematiche che toccano il nostro paese, il nostro contesto sociale debbano essere affrontate attraverso il sistema dell'istruzione. Poi però tra affermare questi principi e far sì che questi si declinino nell'attività quotidiana e nel lavoro quotidiano, nell'attenzione quotidiana che è necessaria dare al sistema dell'istruzione, beh, ce ne passa davvero tanto. Allora è evidente che per riprendere il tema che è stato citato, cioè il tema dell'insegnamento dell'attività alternativa rispetto all'insegnamento delle ore di religione, è evidente che se noi non riusciamo ad investire sulla scuola e quindi a dare quegli strumenti necessari perché siano garantite le attività e che sia garantita una programmazione dell'offerta formativa che risponda anche a questa esigenza, è evidente che il diritto può venire meno. E oggi il tema della scuola deve essere affrontato un po' da questo punto di vista. Dobbiamo continuare a dire che deve essere al centro dell'azione politica ma lo dobbiamo fare concretamente nell'agire quotidiana. Rimaniamo nel tema e nel binomio scuola e diritti però andiamo un po' più nel dettaglio i rapporti tra scuole pubbliche e private, quindi i casi di cronaca degli ultimi mesi, il caso della scuola di Bibiana e anche di altri comuni. In questo senso come vuole muoversi la sua giunta, la giunta di centro-sinistra, nei prossimi mesi? Beh, intanto da questo punto di vista abbiamo ereditato una situazione che ha programmato l'attività per l'anno scolastico 2014-2015 e quindi abbiamo preso atto di una delibera del consiglio, consiglio del quale io facevo parte e che già in quel momento avevo evidenziato la sostanziale fatica con la quale poi avremmo, qualsiasi giunta ci fosse stata in prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, avrebbe fatto fatica a programmare l'apertura delle sezioni di scuola materna perché è una delibera che sostanzialmente condiziona la programmazione stessa del numero di sezioni che devono essere aperte. Io credo che sarebbe scorretto non riconoscere l'attività che le scuole paritarie hanno svolto all'interno della nostra regione. Nella storia, negli ultimi 50 anni, se non avessimo avuto le scuole paritarie, noi non avremmo avuto un'offerta per l'infanzia nel periodo 3-6, tale da coprire le esigenze di tutte le famiglie della nostra regione. E quindi va riconosciuto che l'esperienza delle scuole paritarie è un'esperienza che ha permesso a molti bambini di accedere al sistema dell'istruzione. È evidente però che non può essere visto come, l'esperienza delle scuole paritarie non può essere visto come controltare di quello che è la scuola pubblica, ma deve essere un sistema integrato, un sistema che sa dialogare, un sistema che sa a trovare le soluzioni specifiche per ogni territorio. Nel caso specifico di Bibiana, che è forse quello che ovviamente vi ha visto più coinvolti, vi ha visto dare più attenzione al tema, ed nello specifico l'amministrazione scelse tempo fa di costruire una nuova scuola materna, una scuola dell'infanzia come oggi viene denominata e non più scuola materna, è anche giusto rispettare i termini perché rappresentano un processo pedagogico e culturale diverso. E quindi che cosa occorre fare? Occorre innanzitutto modificare che consiglio modifichi questa delibera e che sia una delibera che consideri le esigenze di quel territorio e vada su quel territorio a programmare l'offerta di scuola dell'infanzia tenendo in considerazione quello che quel territorio può offrire. Se l'amministrazione ha pensato di costruire una scuola dell'infanzia e lo ha fatto immaginando anche i numeri dei bambini che avrebbe avuto poi quale fruitori di quell'attività, di quel servizio, è evidente che deve essere un'aspettativa che in qualche modo deve trovare soddisfazione. Ci tengo a sottolineare appunto che la cosa più importante è riuscire a programmare insieme, a lavorare insieme e non far sì che l'uno sia in controntare dell'altro e ci sia contrapposizione perché sono profondamente convinta che qualsiasi servizio educativo che noi abbiamo su un territorio nel rispetto della laicità e nel rispetto di quelle che sono le esigenze specifiche debba essere tenuto in considerazione come una risorsa preziosa per quel territorio. Ma si deve appunto considerare un'attività complessiva che deve essere garantita ai bambini, anzi, e mi sembra che Bibiana stia facendo questo sforzo, si debba partire da uno 06 nello specifico. Ecco, non soltanto un 36 ma uno 06 che quindi permetta alle famiglie. Assistiamo peraltro a fenomeni tali per cui nelle grandi città in modo particolare le liste d'attesa dei nidi si stanno svuotando in modo drammatico perché il dato della disoccupazione femminile è un dato, come dire, preoccupante, è un dato per il quale se oggi abbiamo una percentuale di disoccupazione del 12%, quando parliamo di donne questo dato arriva anche al 20% e quindi c'è stata un'inversione rispetto al tasso di occupazione nei confronti del tasso di disoccupazione. Ultima domanda, velocissima. Lei è ospite della comunità valdese. Quali sono i suoi rapporti con la comunità valdese, più in generale quella protestante? Che cosa sente di dire? Beh, io credo intanto i rapporti con la comunità valdese, un rapporto che mi viene da usare questo termine, mi affascina molto, mi piace molto ed è una comunità che ho avuto modo di conoscere, di avvicinarmi e di apprezzare molto ed ho sempre, nella mia esperienza politica di amministratore, ho sempre lavorato molto perché il dialogo all'interno delle comunità tra le diverse religioni fosse un dialogo sentito, un dialogo che potesse esprimere progettualità e potesse esprimere quel servizio che credo sia fondamentale erogare all'interno dei nostri territori. Quindi sono davvero molto onorata di poter essere qui questa sera e sono anche davvero molto curiosa di poter vivere questa esperienza insieme a loro. Grazie mille Assessora Pentenero. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie a tutti.